Dopo la notizia della negatività dei due tamponi di verifica per il 53enne di Ogliastro Cilento, dopo la positività riscontrata al virus dal primo tampone prelevato presso l'ospedale civile di Agropoli, arriva anche per il caso di Castelnuovo Cilento, risultato positivo al primo tampone qualche giorno fa, un'anomala situazione. Negativi infatti i due tamponi di controllo effettuati dall'ASL alle due persone in isolamento obbligatorio venuti dall'estero dove lavorano. Questa la comunicazione del primo cittadino di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida. Situazione diversa invece nel comune di Ceraso, dove nella giornata di ieri sono saliti a cinque i contagi da coronavirus. Purtroppo un altro cittadino di Ceraso è risultato positivo al covid. Era già in quarantena e si stanno ricostruendo i contatti dell'ultimo periodo. Gli altri tamponi hanno dato per fortuna esito negativo, a dichiararlo il sindaco Gennaro Maione. Intanto il numero dei contagi in Regione Campania continua a salire, ieri 138 e i casi positivi accertati. Molti di questi però non presentano sintomi e sono in grande maggioranza giovani ragazzi e ragazze.